Italo Svevo, Senilità, Capitolo 13 Egli passò quella notte intera al letto di Amalia in un sogno ininterrotto. Non che avesse pensato continuamente ad Angiolina, ma fra lui e il suo contorno vera un velo che gli toglieva il veder chiaro. Una grande stanchezza gli impediva tanto le speranze ardite che di tratto in tratto aveva pure avute durante il pomeriggio, quanto le disperazioni violente che gli avevano dato il sollievo del pianto. A casa gli era parso di trovare tutto nello stato di prima. Soltanto il balli aveva abbandonato il suo cantuccio ed era andato a sedere ai piedi del letto, accanto alla signora Elena. Guardò a lungo Amalia sperando di poter nuovamente piangere. L'analizzò, la scrutò, per sentire tutto il suo male e soffrire con lei. Poi guardò altrove, vergognandosi. Si era accorto che nella ricerca di commozione era andato alla ricerca di immagini e di traslati. Gli capitò di nuovo il desiderio di fare qualche cosa e disse al balli che lo lasciava libero, ringraziandolo per l'assistenza che gli aveva prestata. Ma il balli, che non s'era neppure pensato di chiedergli come fosse andato il congedo da Angiolina, lo trasse in disparte per dirgli che egli non voleva andarsene. Pareva imbarazzato e triste. Aveva da dire ancora qualche cosa e gli pareva tanto delicata che non lo so senza un esordio di preparazione. Essi erano amici da molti anni e tutto il male che poteva toccare ad Emilio, egli lo sentiva come proprio. Poi decise o disse, quella poveretta mi nomina molto spesso. Io resto. Emilio gli strinse la mano senza provare una grande riconoscenza. Già ora, egli ne era tanto certo da attingervi una grande tranquillità, per Amalia non vera più alcun rimedio. Gli raccontarono che da qualche minuto Amalia parlava continuamente della sua malattia. Non poteva questo essere un indizio che la febbre fosse diminuita? Egli stette a udire, ben convinto, che si ingannavano. Infatti, ella delirò. Mia colpa? Se sto male? Torni domani, dottore, e starò bene. Non sembrava che la soffrisse. Aveva la faccia piccola, misera, oramai proprio la faccia appropriata a quel corpo. Sempre guardandola, egli pensò, e la morrà. Se la figurò morta, quietata, priva d'affanno e di delirio. Ebbe dolore di aver avuta quell'idea poco affettuosa. S'allontanò un poco dal letto e sassise al tavolo, ove s'era posto anche il balli. Elena rimase al letto. Alla scarsa luce della candela, Emilio si avvide che ella piangeva. Mi pare di essere al letto di mio figlio, disse ella accorgendosi che le sue lacrime erano state viste. Amalia improvvisamente disse di sentirsi molto ma molto bene e domandò di mangiare. Nel tempo non correva normalmente a quel letto, per chi seguiva viveva quel delirio. Ella accusava ad ogni istante un altro stato d'animo o nuove avventure e faceva passare con lei i suoi infermieri per quelle fasi in cui lo svolgimento nella vita solita dura giorni o mesi. La signorina Elena, ricordando una precisazione del medico, le preparò e offerse del caffè che fu preso con volutà. Subito il delirio la ricondusse al balli. Soltanto per un osservatore superficiale quel delirio mancava di nisso. Le idee si mescolavano, una si sommergeva nell'altra, ma quando riappariva risultava essere proprio quella che era stata abbandonata. Ella aveva inventata quella sua rivale, Vittoria. L'aveva accolta con parole dolci poi, come il balli raccontò, fra le due donne si era svolto un battebecco che al balli aveva rivelato essere lui il pensiero dominante dell'amata. Ora Vittoria ritornava. Amalia la vedeva avvicinarsi e ne aveva orrore. Io non le dirò nulla, starò qui zitta come se ella non ci fosse. Io non voglio niente, dunque mi lasci in pace. Poi chiamò Emilio ad alta voce. Tu che sei suo amico, digli tu che sa inventa tutto, io non le feci nulla. Il balli credette di poterla calmare. Senta, Amalia, io sono qui e non crederei niente se mi fosse detto del male sul suo conto. Ella lo udì e lo considerò lungamente. Tu sei Stefano? Non lo riconobbe. Glielo dica allora. Spossata lasciò ricadere la testa sul guanciale e per l'esperienza fattane tutti sapevano che per allora l'episodio era chiuso. La signora Elena, durante quella sosta, spinse la propria sedia verso il tavolo al quale sedevano i due uomini e pregò Emilio che la aveva affranto di andare a coricarsi. Egli rifiutò, ma queste parole avviarono tra i tre infermieri una conversazione che riuscì per qualche istante a destrarli. La signora Chierici, in cui il balli con la sua indiscreta curiosità aveva fatte delle domande, raccontò che quando Emilio si era imbattuto in lei, ella stava andando a messa. Ora, disse, le pareva ad essere in chiesa dalla mattina e provava il medesimo alleggerimento di coscienza di chi ha pregato con fervore. Lo disse senza esitazione, col tono del credente che non teme i dubbi altrui. Poi raccontò una storia strana, la propria. Fino all'età di 40 anni, ella era vissuta senza affetti avendo perduti, giovanissima, i genitori. Senza affetti le erano trascorsi i giorni solitari e sereni. A quell'età si era imbattuta in un vedovo che la sposò per dare una madre al figlio e alla figlia che aveva di primo letto. Da bel principio i due fanciulli le fecero cipiglio, ma ella non di meno sentiva di voler loro tanto bene che era sicuro di finire col farsene amare. Si ingannò. Essi la considerarono e l'odiarono sempre quale madrigna. Verano i parenti della prima moglie che si frammettevano fra i fanciulli e la loro nuova madre e la facevano odiare loro con menzogne e facendo loro credere che l'ombra della prima madre si sarebbe ingelosita del nuovo affetto. Io invece mi affezionavo sempre più, tanto da amare la rivale che me li aveva dati. Forse, aggiunse con un'osservazione d'analista oggettiva, il disdegno che vestiva tanto bene i loro bei visini rosei me ne faceva innamorare maggiormente. La fanciulla le fu tolta poco dopo la morte del padre da un parente che si ostinava a crederla maltrattata. Il fanciullo restò con lei, ma anche quando i parenti non ci furono più per suggerirgli l'odio, egli con un'ostinazione sorprendente nella mente giovanile continuò a conservare per lei la stessa sdegnosa malevolenza che si palesava in dispetti e sgarbatezze. Ammalò di scarlatina maligna, ma anche nella febbre le resistette finché estenuato, poche ore prima di morire, le gettò le braccia al collo, chiamandola mamma e pregandola di salvarlo. Poi la signora Elena si compiacque a lungo a descrivere quel fanciullo che l'aveva fatta soffrire tanto. Ardito, vivace, intelligente, tutto comprendeva, meno l'affetto che gli era offerto. Adesso la vita della signora Elena si compendiava fra la sua casa vuota, la chiesa dove ella pregava per chi gli aveva voluto bene un solo istante e quella tomba dove c'era sempre molto da fare. Sì, l'indomani senza fallo ella doveva recarvisi per vedere come fosse riuscito il tentativo o fatto di puntellare un alberello che non voleva crescere dritto. Allora vado io via, se c'è vittoria, gridò Amalia e si rizzò a sedere. Emilio, spaventato, alzò la candela per vedere meglio. Amalia era livida. La sua faccia aveva il colore del guanciale su cui si proiettava. Il balli la guardò con evidente ammirazione. La luce gialla della candela si rifletteva luminosissima sulla faccia umida d'Amalia, tanto che pareva luminosità sua. Il nudo, così brillante e sofferente, gridava. Pareva la rappresentazione plastica di un grido violento di dolore. La faccina, su cui per un istante si era stampata una risoluzione ferma, minacciava imperiosamente. Fu un lampo. Ella ricadde subito, chetata da parole che non comprese. Riprese poi a borbotare, mitemente, da sola, accompagnando con qualche parola la corsa vertiginosa dei suoi sogni. Il balli disse. Pareva una buona dolce furia. Non ho mai visto qualche cosa di simile. Si era seduto e guardava in aria con quell'occhio da sognatore con cui cercava le idee. Era evidente ed Emilio ne provò soddisfazione. Amalia moriva amata dell'amore più nobile che il balli potesse offrire. La signora Elena riprese la conversazione al punto dove l'aveva lasciata. Forse quetando Amalia, ella non si era staccata neppure per un istante dal pensiero suo più caro. Anche il rancore verso i parenti del marito era un elemento della sua vita. Raccontò che essi l'avevano disprezzata perché era figlia di un commerciante di Ferrareccia. Ad ogni modo, aggiunse, il nome dei De Luigi è un nome onorato. Emilio si meravigliò della sorte che faceva capitare in casa un membro di quella famiglia nominata tanto spesso da Angiolina. Interrogò subito Elena se avesse altri parenti. Ella disse di no e negò che in città vi potesse essere un'altra famiglia di quel nome. Lo negò tanto risolutamente che gli dovette crederle. Perciò anche durante quella notte il suo pensiero fu attratto da Angiolina. Come nell'epoca che gli pareva tanto lontana in cui Amalia, sana, non era per lui altro che una persona inquietante di cui si doveva evitare la vicinanza, egli fu invaso da un desiderio cocente di correre da Angiolina per rimproverarla di tanto tradimento, il maggiore che l'avesse ordito. Quei De Luigi erano saltati fuori al principio della loro relazione ed erano stati creati i singoli membri della famiglia a secondo del bisogno. Prima era stata la vecchia signora De Luigi che amava Angiolina come una madre, poi la figlia che la teneva per amica e infine il vecchio che aveva tentato ad ubriacarla. Una menzogna che era stata ripetuta ad ogni loro colloquio e per essa scompariva ogni dolcezza dal ricordo di Angiolina. Anche quei rari tratti d'amore che la aveva saputo simulare si rivelavano con limpida evidenza per quello che erano delle menzogne. Eppure anche quel nuovo tradimento egli lo sentì ben presto quale un nuovo legame. Amalia si muoveva in vano, affannosamente, nel suo letto di dolore. Per lungo tempo egli non la vide. Quando riconquistò un po' di calma ebbe il dolore di dover riconoscere che quando fosse scomparsa la malattia di Amalia o Amalia stessa egli sarebbe corso di nuovo da Angiolina. Lungamente per esercitare su se stesso una pressione si irrigidì al suo posto e giurò di non ricadere mai più in quei lacci. Mai più, mai più. Anche quell'interminabile notte, la più penosa che egli avesse mai vegliata e che pure poteva divenire oggetto di rimpianto, fuggiva. Un orologio batte le due. La signora Elena pregò Emilio di procurarle una pezzuola per asciugare la faccia di Amalia. Per non dover lasciare quella stanza egli, trovate le chiavi, aperse l'armadio della sorella. Fu subito colpito da uno strano odore di medicinali profumati. La poca biancheria era distribuita nei grandi cassetti che erano poi riempiti di boccette di varia grandezza. Egli non comprese subito e, per vedere meglio, prese la candela. Qualche cassetto era pieno fino all'orlo di boccette brillanti lietamente, con dei bagliori gialli, misteriosi, di tesoro rinchiuso. In altri cassetti c'era ancora posto e la distribuzione era fatta in modo che si indovinava il proposito di completare ordinatamente la strana collezione. Una sola boccetta era fuori posto e in quella c'era ancora un resto di liquido trasparente. L'odore del liquido non lasciò luogo a dubbi, doveva essere dell'etere profumato. Il dottor Carini aveva avuto ragione. Amalia aveva cercato l'oblio nell'ebrietà. Non ebbe del rancore verso la sorella, neppure per un attimo, perché la conclusione a cui corse subito la sua mente fu una sola. Amalia era perduta. Quella scoperta valse perciò a ricondurlo finalmente a lei. Richiuse accuratamente l'armadio. Non aveva saputo tutelare la vita della sorella, avrebbe ora tentato di conservarne intatta la reputazione. L'aurora s'avanzava fosca, esitante e triste. Sbiancava la finestra, ma lasciava intatta la notte nell'interno della stanza. Parve che un raggio solo vi penetrasse, perché sui cristalli sul tavolo la luce del giorno si franze colorandovisi, azzurrina e verde, fine e mite. Sulla via soffiava ancora il vento, con gli stessi suoni regolari, trionfali, che aveva avuti quando Emilio aveva abbandonato Angiolina. Nella stanza invece c'era una grande quiete. Da parecchie ore il delirio di Amalia non si traduceva che in parole mozze. Si era quietata sul fianco destro, la faccia vicinissima alla parete, gli occhi sempre aperti. Il balli andò a riposare nella stanza di Emilio. Aveva pregato di non lasciarlo dormire più di un'ora. Emilio si assise di nuovo al tavolo. Si scosse terrorizzato. Amalia non respirava più. Anche la signora Elena se n'era accorta e si era rizzata. La malata guardava sempre con gli occhi spalancati la parete e qualche istante appresso riprese a respirare. I primi quattro o cinque respiri parvero di persona sana e Emilio ed Elena si guardarono sorridendo e pieni di speranza. Ma ben presto quel sorriso morì sulle labbra perché il respiro di Amalia andò accelerandosi per appesantirsi poi e quindi cessare di nuovo. La sosta questa volta durò tanto che Emilio dallo spavento gridò. Il respiro riprese come prima, calmo per breve tempo, poi subito affannoso, vertiginosamente. Fu uno stadio dolorosissimo per Emilio. Per quanto dopo un'ora di intensa attenzione egli si fosse potuto accertare che quella momentanea cessazione di respiro non era la morte e che la respirazione regolare che seguiva non preludiava alla salute, egli dall'ansia tratteneva anche lui il respiro quando cessava quello di Amalia. Si abbandonava a sperare pazzamente quando sentiva riprendere quel respiro calmo e ritmico e soffriva fino alle lagrime al disinganno di vederla ritornare all'affanno. L'alba illuminava oramai anche il letto. La nuca grigia della signora Elena che accontentandosi di un riposo superficiale da buona infermiera teneva reclinata la testa sul petto appariva tutta d'argento. Per Amalia la notte non sarebbe cessata più. La testa spiccava ora quei contorni precisi sul guanciale. I capelli neri non avevano mai avuta tanta importanza su quella testa come durante la malattia. Pareva un profilo di persona energica con gli zigomi sporgenti e il mento aguzzo. Emilio puntellò le braccia sul tavolo e poggiò la fronte sulle mani. L'ora in cui egli aveva maltrattata Angiolina gli pareva lontana lontana perché di nuovo egli non si riteneva capace di un'azione simile. Non trovava in sé l'energia nella brutalità che c'erano volute a compierla. Chiuse gli occhi e si addormentò. Gli parve poi di avere sempre percepito anche nel sonno il respiro di Amalia e di aver continuato a risentirne come prima spavento, speranza e disinganno. Quando si destò era giorno fatto. Amalia con gli occhi spalancati guardava la finestra. Egli s'alzò e sentendolo muoversi ella lo guardò. Quale sguardo! Non più di febbre ma di persona stanca a morte che dell'occhio proprio non interamente disponga e le occorra sforzo e ricerca per guidarlo. Ma che cosa ho Emilio? Io muoio! L'intelligenza era ritornata ed egli, dimenticata l'osservazione fatta su quell'occhio, riebbe intera la speranza. Le disse che ella era stata molto male ma che adesso si capiva risanava. L'affetto che si sentiva in cuore traboccò e si mise a piangere dalla consolazione. Baciandola gridò che da allora sarebbero vissuti insieme, uniti, uno per l'altro. Gli pareva che tutta quella notte tormentosa non ci fosse stata che per prepararlo a tale inaspettata felice soluzione. Poi ricordò tale scena con vergogna. Pareva a lui stesso di aver voluto approfittare di quel solo lampo di intelligenza in Amalia per quietare la propria coscienza. La signora Elena accorse per calmarlo e ammonirlo di non agitare l'ammalata. Disgraziatamente Amalia non capiva. Pareva tanto fissa in un'idea unica da averne occupati tutti i sensi. Dimmi, pregò, cosa è accaduto? Ho tanta paura. Ho visto te, Vittoria e... Il sogno si era mescolato alla realtà e la sua povera mente fiaccata non sapeva sciogliere la complicata matassa. Cerca di capire, pregò Emilio con calore. Hai sognato ininterrottamente da ieri. Riposa adesso e poi penserai. L'ultima frase era stata detta in seguito a un nuovo gesto della signora Elena, la quale perciò attirò a sé l'attenzione di Amalia. Non è Vittoria, disse la poverina evidentemente tranquillata. Oh, quella non era l'intelligenza che poteva essere considerata quale il nunzio della salute. Si manifestava con soli lampi che minacciavano di illuminare e rendere sensibile il dolore. Emilio ne ebbe altrettanta paura come prima del delirio. Entrò i balli, aveva udita la voce di Amalia e veniva anche lui, sorpreso dell'inaspettato miglioramento. Come sta Amalia? Le domandò affettuosamente e l'allo guardò con un'espressione di sorpresa incredula. Ma dunque non era un sogno, considerò lungamente Stefano. Poi guardò il fratello e di nuovo il balli come se avesse voluto confrontare i due corpi e cercare se a uno dei due fosse mancato l'aspetto della realtà. Ma Emilio, esclamò, io non capisco. Sapendoti ammalata, spiegò Emilio, ha voluto farmi compagnia questa notte e sempre il vecchio amico di casa nostra. Ella non udiva bene. E Vittoria? domandò. Non è mai stata qui questa donna, disse Emilio. Egli ha diritto di far così e tu resta pure con loro, borbottò ella ed ebbe negli occhi un lampo di rancore. Poi dimenticò tutto e tutti guardando la luce della finestra. Stefano le disse, mi ascolti Amalia? Io non ho mai conosciuta quella vittoria di cui ella parla. Sono il suo devoto amico e sono rimasto qui per assisterla. Ella non ascoltava, guardava la luce alla finestra con un evidente sforzo per acuire l'occhio semispento. Guardava estatica, ammirando. Ebbe una brutta smorfia che pure rassomigliò a un sorriso. Oh, disse, quanti bei fanciulli. Ammirò lungamente. Il delirio era ritornato. Ci fu però una sosta fra i sogni della notte e le immagini luminose che erano vestite del colore dell'aurora. Vedeva bimbi rosei ballare al sole. Un delirio di poche parole. Designava l'oggetto che vedeva e null'altro. La propria vita era dimenticata. Non nominò il balli, né Vittoria né Emilio. Quanta luce, disse affascinata. Anch'ella si illuminò. Sotto alla pelle di afana si vide salire il sangue rosso e colarle le gote e la fronte. Ella mutava, ma non sentiva se stessa. Guardava le cose che sempre più si allontanavano da lei. Il balli propose di chiamare il medico. È inutile, disse la signora Elena, che da quel rossore aveva capito a qual punto si fosse. Inutile, domandò Emilio spaventato, di sentir ripetuto da altri il proprio pensiero. Infatti, poco dopo, la bocca d'Amalia si contrasse in quello strano sforzo in cui pare che da ultimo anche i muscoli, inetti a ciò, vengano costretti a lavorare per la respirazione. L'occhio guardava ancora. Ella non disse più alcuna parola. Ben presto, al respiro, suonì il rantolo, un suono che pareva un lamento, proprio il lamento di quella persona dolce che moriva. Pareva risultato da una desolazione mite. Pareva voluto, un'umile protesta. Era infatti il lamento della materia, che, già abbandonata disorganizzandosi, emette i suoni appresi nel lungo dolore cosciente.